Non ho smesso di pensarti e vorrei tanto dirtelo, vorrei scriverti che mi piacerebbe tornare, che mi manchi e che ti penso, ma non ti cerco, non ti scrivo neppure ciao, non so come stai e mi manca saperlo, hai progetti, hai sorriso oggi, cosa hai sognato? Esci, dove vai? Hai dei sogni? Hai mangiato? Mi piacerebbe riuscire a cercarti, ma non ne ho la forza e neanche tu ne hai, e allora restiamo ad aspettarci in vano e pensiamoci e ricordami e ricordati che ti penso, che non lo sai ma ti vivo ogni giorno, che scrivo di te e ricordati che cercare e pensare sono due cose diverse, ed io ti penso, ma non ti cerco. Grazie per la visione! Grazie! 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 Grazie!